Bentornati, allora prosegue il mio intento di parlarvi di quei film la cui colonna sonora è stata nominata agli Oscar 2024 se avete visto il video che ho fatto sulle mie previsioni degli Oscar avrete visto che ne ho prese 4 su 5 quindi mi sembra un risultato accettabile, diciamo che ho evitato la brutta figura che avrei potuto fare uno di questi 5 ve l'ho già raccontato, cioè Oppenheimer, mesi fa quando l'avevo visto al cinema per cui andiamo avanti con gli altri 4 alla fine del video comunque vi lascerò i link sia per il mio video su Oppenheimer che quello sulle mie previsioni degli Oscar povere creature, è l'ultima fatica cinematografica di Jorgios Lantimos un regista di cui non avevo mai visto nulla ma di cui tutti mi avevano sempre parlato molto bene in particolare del film The Lobster che adesso mi sono riproposto di andare a vedere per recuperare quello che non avevo fatto quando mi avevano consigliato di vederlo tempo fa ve lo dico subito, povere creature è un film che non accetta compromessi lo si ama o lo si detesta? si trova che sia geniale o si pensa che sia una boiata clamorosa? a me francamente è piaciuto e anche molto mi è piaciuto perché indipendentemente da ogni opinione che ovviamente è soggettiva e quindi è assolutamente valida di per se stessa è un film molto originale dove c'è un linguaggio particolare dove c'è un mondo completamente inventato e dove c'è una colonna sonora molto particolare che vedremo più in dettaglio più avanti nel video il film è ambientato in una sorta di età vittoriana parallela dico parallela perché è ambientato in una diciamo così in una finta Londra di fine ottocento dove però vigono comportamenti e soprattutto tecnologie non realmente esistenti a quel tempo la protagonista è Bella, Bella come nome proprio non come aggettivo ed è una creatura simile a una sorta di Frankenstein in gonnella di cui non vi spoiler la Genesi per non rovinarvi la visione del film il film è diviso in due parti nella prima parte Bella cresce e impara a relazionarsi con gli altri solamente nella realtà casalinga in cui è praticamente forzata a vivere e le poche volte che esce è sempre molto controllata e a volte addirittura sedata impara prima i suoi impulsi poi i suoi bisogni e infine le reazioni che hanno gli altri alle nostre azioni questa prima sezione del film è in buona parte in bianco e nero con delle riprese fatte col grand'angolo che quindi deformano i bordi dello schermo e mi hanno ricordato in tanti punti alcuni quarti di Escher in particolare non so se vi ricordate una delle sfere di Escher nella seconda parte invece Bella inizia un lungo viaggio per il mondo ad affinare e soprattutto a conoscere i propri istinti ancora prima che i propri comportamenti anzi è una certa istintiva ribellione verso quelle regole codificate dalla società come accettabili è alla fin fine un viaggio dell'eroe alla ricerca di se stesso in estrema sintesi questa seconda parte del film invece è caratterizzata da colori ultra vividi e fondamentalmente irreali ma perfetti all'interno di una narrazione che comunque ha qualcosa della favola l'antimos si è inventato letteralmente un mondo intero fatto di alcune trovate tecnologiche alcune macchine utensili fatte dai vestiti e in molti punti fatte da intere città poi nell'ultima parte del film Bella torna a casa per fare i conti col proprio passato e soprattutto per affrontare il futuro ma parliamo adesso della musica della colonna sonora che poi insomma è un po' la cosa che ci interessa di più a me è piaciuta moltissimo perché l'ho trovata molto molto originale ora vi spiego perché il compositore è Jerskin Fendrix che è lo pseudonimo di un ragazzo inglese giovane di 29 anni praticamente che ha fatto pochissimi altri lavori insomma è d'altronde stante la giovanità la cosa è più che comprensibile il lavoro che ha fatto Fendrix è notevole perché esattamente come Antimos ha creato un mondo che non esiste Fendrix ha creato un mondo sonoro perfettamente parallelo e in certi casi anche allucinato in certi casi anche estraniante ed alienante in perfetta combinazione con le immagini che poi insomma dovrebbe essere lo scopo finale di qualunque colonna sonora quello che ho apprezzato di questa colonna sonora è il suo essere assolutamente inusuale soprattutto per un film che non è un film di Hollywood perché la produzione è inglese, il regista e il montatore sono greci e così via quindi una produzione diciamo così più europea che strizza per certi versi anche l'occhio un po' al film d'autore però è indubbio che poi vai a finire nei circuiti del grande cinema internazionale e quindi diciamo che è una colonna sonora che difficilmente avrebbero potuto scrivere ad Hollywood Fendrix usa una strumentazione scarna e abbastanza insolita basata su un leitmotiv di quattro note e alcuni strumenti a percussione che ricordano vagamente lo steel drum o comunque insomma se non è uno steel drum è un qualcosa che tende a ricordarlo devo dire che io comunque me l'ho ascoltata molto bene quindi come mi capita sempre quando vado al cinema a vedere un film la colonna sonora musicalmente la conosco già molto bene così insomma apprezzo di più come è stata poi montata sul film è una scrittura minimale per certi versi minimalista che in qualche punto mi ha ricordato anche Naiman l'unica scelta che non ho condiviso o quantomeno non ho capito è quella di non avere un vero e proprio climax sonoro all'interno del film cioè come dire il mood è quasi sempre lo stesso anche se declinato dal punto di vista strumentale in maniere diverse però riporta molto soprattutto nella prima parte appunto questa narrazione un po' allucinata e allucinante non c'è però un vero momento di sfogo della musica e questo non so se è una scelta precisa del compositore in accordo con il regista o se è stato un come dire un deficit dovuto all'inesperienza sta di fatto che non c'è un vero e proprio climax musicale a parte un pochettino in una scena d'amore diciamo nei due terzi del film e poi sul finale in particolare sui titoli di coda lì c'è come dire un po' di sfogo ecco ma dal punto di vista narrativo musicale della colonna sonora non c'è un apice non c'è un climax quindi alcune scelte sono state determinate dal talento o dall'inesperienza a me piace credere dal talento mi piace credere che in Jerskin e Fendrix abbiano trovato un compositore veramente da tenere d'occhio che solo però ovviamente nei prossimi film ci confermerà la buona impressione che abbiamo avuto o sarà una delusione totale e capiremo che questo era stato un caso isolato però credo che anche la strumentazione scarna sia stata una scelta voluta perché con un film comunque con 35 milioni di budget quindi un buon budget non un budget appunto hollywoodiano ma insomma un buon budget per fare un bel film generalmente insomma c'è una quota importante di questo budget dedicata alla colonna sonora quindi sicuramente gli è stata data la possibilità se essere preferito che alcuni strumenti sparuti e spesso usati anche singolarmente utilizzare una grande orchestra sono sicuro che avrebbe avuto la possibilità di budget e di farla quindi se non l'ha fatta è stata evidentemente una sua scelta stilistica quindi perché in definitiva trovo molto originale questa colonna sonora perché oggi le colonne sonore sono fondamentalmente di due tipi o tradizionali, orchestrali che poi alla fine sono ancora le più belle da ascoltare oppure quelle chiamiamole sperimentali ma ormai insomma c'è ben poco sperimentale è già stato fatto tutto basate fondamentalmente su droni su grandi pedali e sull'utilizzo di musica elettronica invece in questo film c'è un uso acustico degli strumenti che vengono utilizzati però in maniera molto intelligente molto arguta quindi bravo Lantimos e bravo Fendrix gli invidio tantissimo quello che ha fatto non tanto per il risultato che ha ottenuto ma per la libertà espressiva che ha avuto nell'ottenerlo e anche il coraggio o forse l'incoscienza data la giovane età di scrivere una colonna sonora assolutamente al di fuori degli schemi tradizionali il film credo che abbia qualche buona possibilità di vincere l'Oscar come il miglior film non credo che altrettante possibilità abbia la colonna sonora proprio perché ripeto è al di fuori degli schemi tradizionali però se dovesse vincerlo io ne sarei veramente contento e soprattutto sarebbe un segnale da parte di Hollywood di interesse verso un qualcosa di decisamente originale bene spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like lasciate nei commenti la vostra opinione di cosa pensate del film e della colonna sonora ma soprattutto iscrivetevi al canale come lo sapete benissimo cliccando qui sopra e noi ci vediamo al prossimo video